Buonasera amici di money.it è il nostro appuntamento mensile dagli Stati Uniti con noi Roberto Mazzoni ciao Roberto buongiorno a tutti eccoci qua ben trovato e appuntamento sempre molto atteso anche dai nostri spettatori qualcuno ha già nato un titolo ottimista rispetto al solito effettivamente anche per dare insomma delle chiavi di speranza ma anche degli strumenti di quello che si può fare anche semplicemente come atteggiamento mentale partendo però chiaramente dalla situazione di caos hai fatto un video molto interessante del quale parleremo tra poco di questa analisi che hai fatto cioè nel vedere sia nel corso della storia ci sono stati dei periodi di caos come questo se si possono fare dei paragoni e come l'umanità ne è uscita ne parliamo tra poco ma vorrei commentare con te innanzitutto questa storia dei carri armati che gli Stati Uniti dopo fare questo accordo anche con la Germania c'è stato un tira e molla nei mesi scorsi alla fine si è arrivati a questa decisione sull'invio come viene presa lì in patria negli Stati Uniti e se ritieni che questo possa avere come dicono quelli bravi quegli esperti un risvolto effettivo sulla guerra quando l'altro giorno in realtà Zelensky ha detto riferendosi ai leopard però insomma ha detto non è che ci bastano 10 carri armati per cambiare le sorti del conflitto ma guarda ci sono diversi commentatori che sono più esperti di me in materia militare che hanno semplicemente fatto osservare appunto che il numero dei carri armati inviati è modestissimo quindi come questi pochi carri armati possono cambiare le sorti della guerra è difficile francamente vedersi anche perché noi dobbiamo non dimenticarci che l'Ucraina è partita con centinaia e centinaia di carri armati all'inizio della guerra che le erano state lasciate dall'unione sovietica carri armati che erano perfettamente funzionanti quindi carri armati pezzi d'artiglieria munizioni che sono stati tutti bruciati nel corso direi delle varie campagne d'aprile scusatemi di primavera dello scorso anno e sono arrivati all'estate che avevano già esaurito tutta la riserva dei mezzi blindati e dei carri armati e dei pezzi d'artiglieria gran parte che avevano accumulato nel tempo che avevano ricevuto soprattutto l'unione sovietica tant'è che poi c'è stata la corsa nella fornitura di nuovi carri armati provenienti per lo più dalle nazioni che facevano parte precedentemente del blocco sovietico quindi carri armati compatibili con quelli che l'ucraina aveva usato fino a quel momento ma ripotenziati con nuovi sistemi con nuovi aggiornamenti diciamo però che potevano essere guidati con le stesse tecniche con cui erano guidati quelli precedenti cosa che è importante e anche considerando il fatto della manutenzione potevano essere riparati o in polonia piuttosto che in slovacchia piuttosto che in altre nazioni circostanti quindi era possibile per gli ucraini ricostruire se non proprio uno scenario simile a quello dell'inizio della guerra abbastanza vicino infatti abbiamo visto lo sviluppo delle offensive di kherson di kharkiv soprattutto kherson però di nuovo tutta questa nuova fornitura di grandi quantità di carri armati addirittura pezzi di cambio andati recuperati in africa per far funzionare tutto sono stati di nuovi distrutti da russi durante le varie campagne estive quindi oggi gli ucraini sono a corto di materiale perché hanno bruciato una quantità impressionante di mezzi blindati l'invio dei mezzi quindi della decina o quindicina o non so tra tutte le varie nazioni nato a quante potranno arrivare mettiamo una cinquantina di carri armati tutti diversi tra loro tutti con pezzi di cambio differenti tutti con sistemi di manutenzione diversi e tutti con tecniche di guide di nuovo differenti tra l'altro per lo più non adatti al tipo di terreno su cui si sta combattendo quindi potranno usarli probabilmente quando il clima sarà molto caldo perché sono carri armati più pesanti rispetto a quelli di fabbricazione russa e quindi nel periodo attuale forse quando c'è un po di congelamento potranno proprio usarli ma soprattutto in primavera sarebbe difficile perché se c'è una stagione piovosa come l'anno scorso semplicemente si infangano finiscono nel terreno laddove i carri armati russi hanno maggiore possibilità di movimento che sono molto più leggeri ma anche supponendo che ci verranno mesi per addestrare il personale ucraino a usare queste queste nuove armi siano in grado di usarli in quest'estate il risultato direi appunto minimo guardiamo l'ordine di grandezza i russi credo che abbiano mobilitato complessivamente 700 mila uomini tra quelli che sono sul confine in russia in prossimità del confine ucraino e quelli che sono in ucraina noi abbiamo avuto le ultime cifre sul fronte ucraino sembra che i morti siano intorno ai 157 mila 160 mila quindi stanno facendo una mobilitazione stanno reclutando persone anziane giovanissimi per cercare di ricostruire delle file che si stanno assottigliando rapidamente soprattutto nella zona di bakhmut nella zona del donbass che maggiormente contesa in questo momento quindi hanno molto lavoro da fare per ricostruire queste nuove brigate se ci riescono con una capacità di fuoco che è limitatissima perché oggi da quello che ho sentito dire in generale i russi sparano dai 20 mila e 60 mila colpi a seconda delle dei momenti di intensità di artiglieria mentre gli ucraini sono scesi da quelli che prima erano appunto prima erano 60 mila contro 20 mila adesso non scesi intorno ai 1500 1200 vuol dire che non hanno più colpi e quando guardiamo la nato la nato non ha colpi non ha molte molte munizioni per queste armi che manda tra l'altro i vari carri armati che non stati mandati in precedente di fabbricazione nato sono rotti quasi subito che sono molto più delicati sono non sono adatti a questo tipo di di guerra soprattutto sono stati usati per lo più in guerre dove l'avversario è relativamente debole avendo invece dall'altra parte un esercito russo che ha una predominanza schiacciante in termini di artiglieria il carri armato non se la cava molto bene soprattutto appunto se poi magari non è guidato da un guidatore esperto quindi credo che questa sia più che altro un modo per salvare la faccia per far sì che la guerra prosegua in ogni caso a oltranza quando ormai sembra abbastanza evidente che la il destino dell'ucraina sia segnato e quindi vuol dire che quest'anno ci saranno ancora molti morti sul italiano moriranno anche russi per ormai vediamo che il rapporto del 1 a 10 quindi per ogni russo che muore muoiono 10 ucraini ci sarà un enorme distruzione di materiale anche nato appunto abbiamo visto anche i cannoni della nato che quando sparano troppo intensamente si bloccano si fermano perché non sono abituati a quel tipo di situazioni sono molto più precisi hanno una citata maggiore ma non reggono una un invio di 40.000 20.000 60.000 colpi al giorno come invece sono quelli russi che sono decisamente meno evoluti ma molto più robusti quindi appunto qua ormai siamo non prestiamo neanche più particolare attenzione a questa situazione salvo il fatto di vedere quello che può essere una l'evoluzione della politica noi sappiamo che oggi al parlamento ci sono c'è una fazione piccola ma molto attiva nel partito ripubblicano che intende ridurre i finanziamenti all'ucraina controllare quello che succede nella guerra e tendenzialmente disimpegnare gli stati uniti è una battaglia fortissima all'interno partito ripubblicano medesimo che vedrà scontri vedrà sicuramente tensioni però la prospettiva è che se va avanti così l'ucraina avrà sempre meno risorse e quindi è solo questione di capire quando tutto questo finirà cercheranno stanno cercando di portare avanti più lungo possibile cercando appunto di fare il bel gesto di mandare armi che non cambieranno la situazione perché abbiamo visto è una storia che ci hanno raccontato anche in passato e con questo non voglio schierarmi da una parte piuttosto che dall'altra semplicemente tiro delle conclusioni a mio parere la guerra doveva essere già finita da tempo dovevano aver cercato un qualche tipo d'accordo di pace che non hanno fatto quello che abbiamo visto in passato che erano gli stinger piuttosto che i javelin che non il lancio lanciarazzi anticarro dovevano cambiare le sorte della guerra non l'hanno fatto poi sono arrivati i cannoni gli obici di i cannoni di grande calibro che dovevano cambiare le sorte della guerra non hanno fatto poi arrivato gli hymars e i lanciarazzi multipli che dovevano cambiare drasticamente le sorte della guerra non l'hanno fatto e quindi con questi nuovi carri armati succederà la stessa cosa ci verranno raccontare che questo sarà l'elemento che cambia la situazione e invece no e purtroppo per la nato direi o perlomeno diciamo a svantaggio anche dei fabbricanti d'armi occidentali quello che stanno dimostrando è che poi le loro armi non sono così valide quando vengono usate contro un avversario reale e questo forse ci auguriamo possa anche incutere un po di buon senso in alcuni dei politici quelli che possono ancora averne un po americani e anche europei per evitare un confronto con la cina che a questo punto viste queste situazioni si presenterebbe decisamente poco poco favorevole per l'occidente volevo chiederti anche di questa storia delle carte Biden è una vicenda rilevante secondo te anche per il futuro si è parlato della sua intenzione di ricandidarsi addirittura alla presidenza come è venuta fuori se si tratta insomma di un qualcosa che potrebbe essere interessante per quello che potrà fare merda beh non credo che siano interessanti in termini di notizie non sapremo niente perché tanto sono documenti segreti resteranno tali magari sono banalità però di fatto non ci riveleranno nulla in quel senso la vicenda però è interessante perché dimostra che Biden è arrivato a capolinea e credo che sia sia opportuno per il suo partito eliminarlo per vari motivi innanzitutto Biden non è più diffondibile ogni volta che parla in pubblico senza seguire in modo rigoroso quello che gli hanno scritto finisce per dire qualche fesseria oppure per fare delle gaffe e perciò è sempre meno possibile difenderlo in più se consideriamo il fatto che la presidenza Biden a questo punto inanellerebbe due grosse sconfitte nella sua nei suoi quattro anni il primo l'afghanistan con il ritiro disastroso e secondo sarebbe l'ucraina vediamo che è necessario che ci sia appunto qualcuno che si prenda la colpa di tutto questo punto sarebbe Biden e alcuni suoi collaboratori e per far posto potenzialmente a un nuovo presidente democratico questa è la visione del partito democratico quindi siccome Biden dopo le elezioni di medio termine aveva dichiarato di volesse ricandidare ormai siamo ci stiamo avvicinando alle primarie dei due partiti quindi le elezioni interne in cui i due partiti devono decidere quale sarà il loro candidato per la presidenza quello che il partito democratico vuole far capire in modo piuttosto intenso a Joe Biden è che non deve ricandidarsi deve chiamarsi fuori idem per Kamala Harris quindi il duo Biden Harris deve sparire nel 2024 non deve essere parte delle elezioni ci saranno dei nuovi candidati probabilmente quello più probabile è Gavin Newsom l'attuale governatore della California e qualcuno fa anche il nome di Michelle Obama può darsi però Newsom sembra essere quello più credibile quindi ma la cosa comunque sta prendendo dei contorni abbastanza surreali innanzitutto perché l'intera vicenda si è sviluppata in maniera imbarazzante per la casa bianca sicuramente e direi che questo è un ulteriore schiaffo agli americani perché vedono la figura del presidente sempre più degradata in buona sostanza quindi hanno trovato questi documenti in casa no il primo il primo pacchetto è stato trovato presso un'università dove c'era un centro diciamo di relazioni internazionali finanziato tra l'altro dal periodo comunista cinese anche dove Joe Biden faceva delle attività e hanno trovato dei documenti riservati in questo centro ma sono stati trovati dagli avvocati del stesso Biden che quindi hanno segnalato la questione al ministero di giustizia e però hanno trovato le prime delle elezioni e nessuno ha detto pubblicamente perché questa notizia naturalmente avrebbe potuto influenzare le elezioni vi ricordate il raid su Mara Lago dove l'FBI è andata a sequestrare i biglietti da visita, i menu dell'eccedere della Casa Bianca, la lettera del premier nordcoreano che aveva scritto a Trump cosa di questo genere qui accusando Trump di aver violato il segreto nazionale portandosi a casa dei documenti riservati quando Trump aveva pubblicamente declassificato questi documenti potere che lui aveva in quanto presidente potere classificare qualsiasi cosa quindi hanno poi dopo girato la questione rendendosi conto che l'avevano fatta grossa accantonando dopo comunque la propaganda che avevano fatto che ha influenzato naturalmente le elezioni accusandolo di furto di segreti nazionali hanno poi girato cambiato il tiro dicendo no in realtà non ha collaborato cosa che sarà molto difficile da dimostrare anche perché appunto l'FBI era stata in contatto per lungo tempo con gli avvocati di Trump erano andata a Mara Lago per vedere quali erano i documenti presenti e avevano richiesto che i documenti restassero in questa stanza chiusa con l'aggiunta di un lucchetto speciale che è aggiuntivo che protegge la stanza quindi evidentemente erano uno consapevoli che c'erano due c'era una collaborazione integrale da parte lo staff di Trump e tre avevano lo staff di Trump aveva aumentato la sicurezza in questo non voglio dire che Trump non abbia mai commesso qualche leggerezza o non saprei però dal da quello che è emerso trapelato sul contenuto dei documenti veramente erano delle banalità nel caso invece di Biden sono i suoi stessi avvocati sono fatti avanti però hanno scoperto questi documenti questo primo pacchetto i documenti prima delle elezioni senza farne parola e poi sono emersi altri documenti che in questo caso erano uno scatolone dentro il garage della casa di Joe Biden quindi rispetto rispetto per intendersi tutti questi documenti che erano risalevano a circa sei anni fa o più o meno quel periodo erano documenti riferiti alla carriera di Joe Biden come senatore o come vicepresidente quindi in quanto senatore vicepresidente Joe Biden non aveva nessun diritto di declassificare documenti quindi era chiaramente una violazione delle leggi di sicurezza mentre Trump poteva declassificare e ha declassificato quindi poteva avere in mano proprio con le stesse cose volesse come il resto hanno fatto molti altri presidenti prima di lui nel caso di Biden tutto questo è avvenuto quando lui non aveva tali poteri e poi il fatto che ci fosse questo scatolone nel garage no non era proprio poi ne ho trovato degli altri degli altri in una stanza adiacente al garage che Joe Biden ha identificato come come se fosse la sua libreria sempre a casa sua per intenderci a differenza di Mar-a-Lago dove c'è comunque una registrazione delle persone che entrano e escono nella casa di Joe Biden non c'era nessun tipo di registrazione quindi chiunque poteva entrare uscire a piacimento a questo punto hanno mandato gli avvocati di Biden per fare una ricerca più approfondita e hanno trovato ancora altri documenti però siccome erano segreti confidenziali e tutto il resto gli avvocati non potevano prelevarli e quindi hanno concordato con le FBI di fare una perquisizione quindi abbiamo avuto che ha fatto la perquisizione della casa privata di Joe Biden ha trovato altri documenti altri sei blocchi di documenti non sappiamo se sono grandi o piccoli tutti confidenziali in questo tipo di perquisizione concordata quindi a cui hanno partecipato anche gli avvocati di Biden cosa che invece non è avvenuto per Trump perché gli avvocati di Trump sono stati lasciati fuori dalla porta quando c'è stato il raid non concordato naturalmente alla casa di Mar-a-Lago e quindi vediamo che non passa giorno quasi senza che emergano nuovi documenti quindi si capisce che Biden sparpagliava i documenti un po' dappertutto dovunque andasse ne lasciava ma poi con una ricerca più approfondita alcuni giornalisti indipendenti americani andando a ripescare i famosi contenuti del laptop di Hunter Biden la cui attendibilità è stata confermata anche dalla stampa di regime hanno trovato dentro questi queste mail dei contenuti che si riferivano a quei documenti segreti quindi a questo punto la cosa si sta allargando perché risulta evidente che il figlio tra l'altro che risulta locatario di quella casa quindi paga l'affitto in teoria dovrebbe pagare l'affitto al padre ma il padre non l'ha dichiarato fiscalmente quindi potrebbe essersi anche se c'è una truffa fiscale in ogni caso il figlio ha accesso a quella casa perché per qualche motivo figura come inquilino e paga un affitto piuttosto salato il figlio a quanto pare aveva accesso a questi documenti quindi quando lui era tra l'altro coinvolto con gli ucraini e ci sono dei documenti riservati relativi all'ucraina che sono emersi da questa ricerca quindi si sta allargando a macchia d'olio e di certo non non è assolutamente positiva anche perché adesso hanno nominato un inquirente speciale così come hanno fatto per per trump non potevano a questo punto fare diversamente per biden che sta appunto indagando su tutte queste vicende e se 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 joe biden non decide di ritirare la sua candidatura perlomeno di dire non che non non si candida per il 2024 credo che ci saranno ulteriori escalation evidente ma l'ultimo colpo di scena è degli ultimi giorni dove persino mike pence invece ben semplice presidente durante l'amministrazione trump ha scoperto dei documenti riservati a casa sua ed è corso a denuncia auto denunciarsi l fbi ha comunicato la cosa a tutti i colleghi in parlamento in senato grande grande battagio informativo e di nuovo anche mai pense in quanto vicepresidente non aveva il diritto di declassificare nulla quindi se ha dei documenti riservati a casa sua come lui stesso dichiara questo punto di avere e che ha consegnato alle autorità è colpevole pure lui quindi e poi vediamo che trump comunque cerca di difendere mai pense come posizione eccetera eccetera quindi la situazione è piuttosto complicata l'idea che ci siamo fatti qui in america e che stiano cercando di saldare biden e trump e affondarli entrambi vuoi creando confusione nella mente della gente poi aggiungendo mai penso come ingrediente quindi facendo un terzetto un trio micidiale e affondando i tuoi tre così da evitare perché per loro l'obiettivo principale è che vai scusatemi e che trump si ritiri questo è sempre stato chiarissimo dal 2020 in avanti ma a questo si è aggiunto il fatto che anche biden ha su questo punto non deve assolutamente candidarsi quindi probabilmente cercheranno di creare un polverone incolpando biden di qualcosa che cercheranno poi dopo di trasferire anche su trump come immagine costringendoli entrambi secondo loro visione a ritirarsi dalla competizione quindi vedremo ci sono sicuramente le novità e direi che tutto questo in ogni caso sta creando una forte disillusione nel popolo come pubblico americano rispetto a quello che l'effettivo potere del presidente l'effettiva integrità della della posizione presidenziale ormai in questi tre anni ci hanno dimostrato ne avevamo sospetto ma a questo punto abbiamo la certezza che le decisioni importanti non vengono prese dal presidente non vengono nemmeno prese dalla casa bianca se per questo e c'è tutto un apparato possiamo chiamarlo deep state o possiamo anche semplicemente chiamarlo burocrazia permanente che gestisce lo stato e gestisce la nazione senza dover rendere conto i cittadini senza dover rendere conto al presidente e senza dover rendere conto in buona stanza a nessuno salvo che ai loro sponsor privati e quindi vediamo poi dopo una fusione di capitalismo cosiddetto clientelare quindi grandi aziende che foraggiano questo questo marasma questo stagno puzzolente al fine di poi pilotare le politiche a proprio favore e in questo scenario tuttavia vediamo crearsi di una grandissima confusione grande caos perché ognuno tira se vogliamo la coperta dalla sua parte e lasciano scoperte grandi aree dove persone intraprendenti persone che invece stiano puntando verso sfruttare questa confusione per creare nuove realtà economiche e nuove opportunità hanno ampio spazio per inserirsi e quindi questo un pochino anche il messaggio positivo che vorrei trasferire che giusto trasferire per il 2023 2023 sarà un anno di grandi grandi avvicendamenti vedremo personaggi che spariscono vengono sottili da altri vediamo la purga in corso adesso in ucraina dove moltissimi personaggi del governo zelensky vengono espulsi qualcuno è morto in modo misterioso c'è un grande grande ribaltone quindi sarà l'anno dei ribaltoni e nei ribaltoni c'è spazio invece per le persone oneste che vogliono fare qualcosa di efficace e i segnali si vedono volevo chiederti ne avevamo parlato anche tempo fa ma ne ha parlato il financial times se lo sbaglio ieri raccontando di una sorta di campagna acquisti da parte dei funzionari economici di diversi stati americani che sono arrivati in europa presentando sostanzialmente come fossero un po' dei rappresentanti di qualunque azienda i vantaggi della legislazione sul clima di biden approvata ad agosto col tentativo chiaramente di fare in modo che queste società che queste aziende si si trasferiscano o comunque aprano magari filiali anche negli stati uniti sappiamo che già diversi stabilimenti nei mesi scorsi hanno preso questa decisione sia per sfruttare gli incentivi ma anche chiaramente per risparmiare i suoi costi ad esempio dell'energia come sta andando secondo te questo reclutamento cioè vedi un'europa che come qualcuno dice appunto rischia una deindustrializzazione la von der Leyen dice a parole almeno ha detto nelle ultime settimane che chiaramente questo problema di questi incentivi degli stati uniti è un qualcosa da dar ginaghe che quindi anche l'europa è pronta a provare il suo green deal però intanto il tempo passa e le imprese magari partono si guarda se dovessi scommettere tra stati uniti e europa io vivono gli stati uniti sai bene su cosa scommetterei allora il punto è questo che l'europa in questo momento è sicuramente in posizione più debole nel rapporto nel confronto con gli stati uniti sia perché negli stati uniti il green deal il green new deal non è poi decollato così tanto ancora e quindi disponiamo tuttora di energia in quantità sufficiente e a basso costo non dappertutto però in alcuni stati che sono quelli più dove si vede la maggiore crescita industriale tex sono di questi oppure stati come la florida dove sono incentivi tipo fiscali ce ne sono diversi che stanno avendo quella direzione vediamo al tempo stesso una deindustrializzazione invece della california quindi se vogliamo guardare quello che potrebbe essere il futuro dell'europa o di parte dell'europa che poi dipende dai singoli stati perché non è bisogno c'è bisogno di seguire questa corsa verso il bar trova possibile farsi da parte e cercare un percorso alternativo se vogliamo vedere l'evoluzione della europea direi di guardare la california california anticipa cerca di anticipare i trend più pericolosi negli stati uniti e in qualche modo detta le direzioni è un laboratorio che poi si traduce direttamente in europa e in quel senso vediamo che c'è una discreta disfunzionalità economica c'è un fuggifuggi di industria dalla california verso altri stati gli stessi stati che si presentano in europa facendo incetta di possibili clienti ora questa promozione per trasferire aziende dal non solo d'europa ma in particolare dall'europa verso gli stati uniti non è una cosa nuova dove io in florida ci sono prechi aziende europee che sono trasferite tempo fa magari creando inizialmente dei filiali e che possono oggi potenziare quindi non è una cosa nuova anche perché comunque il mercato del lavoro negli stati uniti è più favorevole c'è una disoccupazione crescente abbiamo visto i grandi di big tech stanno licenziando quindi ci sono tantissimi anche sviluppatori software sul mercato a basso costo costo relativamente contenuto quindi negli stati uniti oggi è possibile pensare a delle evoluzioni interessanti in termini industriali nel caso dell'europa fino a che non si risolve la questione ucraina vedo difficile per l'europa potremmo avere una politica di espansione sensata anche perché la guerra stessa crea instabilità crea incertezze gli stati uniti sono schermati dagli effetti della guerra perché siamo distanti possiamo avere un contraccolpo economico ma che comunque sempre molto inferiore rispetto a quello dell'europa nel caso dell'europa che invece dipende di pesa in modo significativo dall'integrazione con i russi sia per con la russia sia per l'energia e anche per parte delle materie prime o di dei semi lavorati e anche del cibo degli elementari oggi si trova un grosso problema cioè deve ricostruire delle catene distributive delle catene logistiche molto più corte spesso non disponendo di alcuni elementi chiave di cui ha bisogno anche rapporto con la cina che rischia di deteriorarsi considerando lo scontro la direzione di scontro tra nato e cina sulla questione taiwan non aiuta perché se come è possibile i cinesi ridurranno l'esportazione verso l'europa e ridurranno le importazioni dall'europa per l'europa questo vuol dire deindustrializzarsi per il semplice fatto che mancano i clienti quindi io direi che l'esperimento europeo della comunità europea si è arrivato abbastanza a un capolinea e la questione ucraina credo che sia la dimostrazione più lampante l'unione europea nasceva se ho capito bene se ricordo bene per facilitare il commercio integrato tra integrato lo spostamento di persone nel continente e quindi ridurre di conseguenza il rischio di conflitti di guerre e ripetersi di guerre su vasta portata come avevamo visto nella prima seconda guerra mondiale con la guerra in ucraina che è alimentata di fatto magari anche contro voglia ad alcuni stati europei però sicuramente della comunità della commissione europea alimentata con entusiasmo questo mandato originale viene disatteso e quindi crolla l'utilità di avere una struttura che a questo punto è solo una struttura parassita della burocrazia di bruxelles che non fa altro che inserire regole sempre più demenziali abbiamo viste adesso mi dicono che in europa è stato legalizzato l'uso della polvere di grilli per fabbricare alcuni tipi di cibi in particolare pane piuttosto che dolciumi piuttosto altre cose e mi dicono pure che questo tipo di polvere estremamente nociva per la salute oltre che essere una schifezza mi parere ma estremamente nociva per la salute quindi vediamo che da un punto di vista di percorso verso il nuovo culto del controllo climatico l'europa più avanti e di conseguenza ha bisogno di fare un'inversione di rotta il più presto possibile questo che questo sia possibile fattibile dai singoli stati non lo so anche perché i governanti hanno bisogno di soldi per fare le cose che promettono di fare questi soldi possono venire solo dalla banca centrale europea di conseguenza vedo poco credibile una reale indipendenza dei governi europei rispetto alle decisioni di francoforte bar bruxelles ma invece proprio perché questo lo spiego anche nella mia analisi sulla terza epoca del caos quello che io credo è che i grandi governi nazionali si stiano di fatto auto distruggendo perché non sono più in grado di fornire una protezione del territorio una reale organizzazione sensata del dello stato e quindi lasciano lo spazio per la creazione di una economia parallela di una società indipendente parallela che si muove su su spinta dei singoli su iniziativa dei singoli anche perché più questi governi cercano di controllare in modo spasmodico centralmente ogni singola cosa che accade più fanno fatica a vedere quello che succede perché voglio dire chiunque abbia un minimo di competenze in ambito informatico sa che quando si aumenta la quantità di dati da monitorare diventa poi difficile monitorarli quando uno ha una mole gigantesca di cose deve affidarsi sia all'intelligenza artificiale però l'intelligenza artificiale a volte si traduce in efficienza naturale nel senso che il la qualità del software dell'intelligenza artificiale dipende dalla qualità di chi lo ha sviluppato e chi lo ha programmato il computer non non scopre cose da solo non si muove da solo non impara da solo a di là di quello che ci viene raccontato quindi io vedo appunto grandi opportunità per la costruzione di realtà più locali anche perché comunque la globalizzazione si sta smontando non si smonterà in due giorni pronosticano che ci vorrà un decennio prima di cambiare l'assetto complessivo e questo decennio alcuni lo classificano già come un decennio perduto come quello che abbiamo visto in giappone ossia un decennio dove non c'è sviluppo non c'è neanche una crisi eclatante però tutto tende a diminuire tutto tende a perdere energia nel caso giappone purtroppo ne hanno avuti tre di decenni perduti quindi se vanno per il quarto non so cosa cosa ne resti ma nel caso dell'europa quello che ci attende sicuramente una situazione di stasi economica questo credo sia inevitabile dove bisogna essere più intraprendenti più bravi per creare nuove opportunità ma quelli che lo faranno saranno avanti rispetto a tutto il resto perché lo sappiamo benissimo la burocrazia è sempre molto in ritardo ed è sempre molto inefficiente nel gestire le cose quindi ci vorrà come dico maggiore competenza individuale maggiore responsabilità sarà bisogno di lavorare di più insieme magari su piccole comunità piccoli gruppi che si sostengono uno con l'altro e creare una nuova catena logistica perché quella attuale ho letto un bellissimo libro recentemente si chiama sold out che spiega perché la catena distributiva mondiale quindi di conseguenza anche la globalizzazione stanno fallendo perché era troppo complessa era troppo era ottimizzata all'estremo e quindi anche la cosa più piccola che andasse storta poi provocava danni notevolissimi perciò se da una parte consentiva di avere un'estrema efficienza in termini di costi in termini di tempi e quindi portare la stata ottimizzata all'estremo dall'altro era estremamente fragile e quindi adesso mentre quella si smonta perché non sta più in piedi è necessario costruire tante catene parallele che saranno meno efficienti ma saranno più resistenti nel senso che se non funziona uno c'è un'altra ma per fare questo ci vogliono anni e ci vuole molta molta intraprendenza molto lavoro anche perché appunto se mancano le materie prime se mancano i semi lavorati sarà difficile importare e esportare da centri importanti come possono essere quelli della cina come può essere la cina piuttosto che l'india piuttosto che anche gli stati uniti sarà necessario costruire quante più cose all'interno che un po la strategia in questo momento stanno seguendo quindi stati uniti di portare in casa quanto più industria possibile in modo da avere una catena distributiva cortissima ossia avere tutto quello che serve prodotto all'interno e siccome dopo vent'anni di globalizzazione america ci sono industria ma non sono sufficienti e recuperare le industrie perdute seguendo un percorso organico di crescita interna richiederebbe probabilmente dieci anni o forse anche venti è più semplice almeno dal punto di vista dei politici americani incoraggiare operatori europei che già sono attivi a venire qui e quindi portare qui le loro industrie quindi rispondendo un po la domanda sì credo che ci sarà una deindustrializzazione in europa soprattutto in alcune industrie quelle che dipendono fortemente dal circuito globale quindi che hanno bisogno di materiale complesso di una di una catena logistica complessa per essere alimentate penso all'automobile per esempio oppure a industrie sofisticate e quindi ci sarà bisogno di recuperare i percorsi in modi diversi ma ci possono essere molte altre industrie magari più piccole o più più locali che possono emergere emergere bene anche perché poi alla fine qualunque cosa facciano i governanti che su cui diciamo abbiamo delle riserve il poi l'economia deve andare avanti la gente ha bisogno di cose ha bisogno di consumare ha bisogno di continuare a vivere e di conseguenza cercherà delle alternative per questo appunto che le opportunità sono grandi al nostro titolo anche al tuo video che hai fatto su questo questa sorta di terza ondata di caos hai fatto questa analisi per verificare se nel corso della storia ci sono stati periodi così come dire ingarbugliati caotici come questo e ne ha individuati due e che paralleli si possono fare e come si può arrivare secondo te da questa situazione di caos che chiaramente lascia tante persone smarrite a un'abbondanza a quindi uno stato in cui le persone abbiamo sempre detto la soluzione è individuale forse più che collettiva e come poter non solo sopravvivere ma possibilmente anche vivere meglio nonostante chiaramente le forze oscure che si muovono e che cercano di perseguire determinate finalità certo ma direi innanzitutto che il fatto di puntare all'abbondanza sia indispensabile è uno dei rimedi fondamentali ossia nel momento in cui ci arrendiamo e diamo per scontato che tutto andrà male e che siamo finiti siamo profeti del nostro stesso futuro poi succederà così perché non viene fatto niente per andare in direzione opposta quindi la prima cosa da tenere sempre a mente è che in qualsiasi situazione caotica in qualsiasi crisi soprattutto quelle gravi ci sono anche opportunità ugualmente grandi questo ce lo dicono i saggi orientali da tanto tempo e lo si riscontra in ogni situazione umana tutti i grandi cambiamenti che abbiamo visto nella storia umana sono frutti di grandi crisi dove una classe politica un'aristocrazia perché oggi di fatto viviamo in regime aristocratici che sono di tipo tecnocratico sono i tecnocrati che governano le cose non sono più i nobili ma la logica non è molto diversa e quindi ogni volta che un sistema aristocratico corrotto come quello in cui viviamo oggi crolla perché crollano sempre inevitabilmente sia creano le opportunità di creare nuove strutture sociali nuovi contratti sociali e nuovi percorsi nella mia analisi di fatto che poi non posso resumere integralmente qui naturalmente il video che ho fatto ma ho identificato tre punti fondamentali nella storia umana dove il caos è arrivato a proporzioni enormi uno dei quali quello che stiamo vivendo e in tutti e tre i casi l'uomo si è trovato di fronte ad armi limitate vale dire armi contro cui non c'era nessuna difesa nel caso specifico e queste armi hanno trovato diciamo un rimedio nel momento in cui è stata trovata una difesa efficace la situazione è ritornata sotto controllo vale dire quando c'è un attaccante che ha un'arma che non può essere sconfitta non è possibile mantenere uno stato una nazione ordinata perché il governo ha il compito primario di difendere i confini e difendere la struttura dello stato di proteggere i propri cittadini è il mandato principale nel momento in cui non può più farlo perché ci sono armi da cui non può difendersi lo scopo dello stato viene meno e quindi anche il potere che viene di fatto riconosciuto allo stato continua a diminuire continua a degradarsi continua a disperdersi verso l'esterno e siccome la burocrazia centrale politici si rendono conto di questa cosa cercano di controbilanciare concentrandolo sempre di più nelle proprie mani ricorrendo a metodi sempre più autoritari no vedendo nella cina il modello perfetto cosa che poi in realtà vediamo che anche per i cinesi non sta funzionando quindi questo questa è una tendenza naturale che si verifica quando appunto ci sono armi illimitate che sul contro cui non c'è nessuna difesa rispetto alle quali non c'è nessuna difesa come oggi quando guardiamo alla bomba nucleare nel senso che non c'è nessun modo per impedire che un attacco nucleare distrugga un'internazione o distrugga potenzialmente l'intero pianeta e quando vediamo costantemente i ministri in media parlare di rischio nucleare parlare di rischio di guerra nucleare ci rendiamo conto che stanno alimentando questa isteria collettiva che non fa altro che rendere le persone apatiche più soggiogabili per certi versi ma al tempo stesso distrugge la stessa autorità del governo lo vediamo negli stati uniti la figura del presidente ormai è ridotta a un lumicino ed era la figura considerato l'uomo più potente del pianeta quindi in questa situazione appunto c'è una distribuzione una dispersione automatica della società e dell'economia è difficile mantenere situazioni centralizzate se guardiamo anche la globalizzazione dove ha funzionato è stato dove c'è stata una grandissima dispersione vale a dire i singoli operatori hanno costruito dei rapporti anche complessi con tanti altri operatori tanti altre nazioni senza necessariamente passare attraverso rispettivi governi e lì dove comunque ha funzionato è stata la componente positiva poi i governi che hanno cercato naturalmente di trasformarsi in elementi parassiti su questa che poteva essere invece un'opportunità di maggiore prosperità collettiva e tranne benefici creando distorsioni e creando soprattutto manipolazioni valutari e finanziarie l'elemento centrale che oggi ci lega è il denaro indubbiamente e che ci lega a livello mondiale nel senso che l'unico punto in comune che abbiamo con tutti laddove possono esserci invece differenze di cultura possono essere differenze di opinione politiche possono essere differenze su tanti fronti nessuno discute sul denaro sui soldi e il denaro purtroppo anche l'area più corrotta in assoluto nel sistema moderno a partire dalle diciamo dall'inizio del novecento in avanti è stato fortemente distorto come sistema quindi quello che oggi si offre come opportunità è di creare innanzitutto diventare più esperti in materia capire meglio quelli sono i meccanismi effettivi non c'è un solo tipo di denaro ce ne sono diversi tipi e non sono tutti dello stesso valore e capire come funziona capire come mai quelli l'uno per cento che è al vertice della piramide economica diciamo i più abbienti e continuano a guadagnare quantità di denaro impressionanti e noi continuiamo a impoverirci quindi questo direi che nel 2023 diventi una necessità un obbligo individuale capire meglio come funziona davvero e poi sulla base perché quando uno capisce meccanismi poi li può sfruttare proprio vantaggio un po come il judo usi l'attacco dell'avversario contro di lui e ci sono tantissime opportunità per farlo e quindi direi che questo è il consiglio che vi posso dare capire meglio come funziona creare un'economia parallela prepararsi a un'economia parallela che sarà necessaria soprattutto se riusciranno a lanciare la famosa valuta digitale l'euro digitale centralizzato il dollaro digitale centralizzato e quindi ci sono grandi opportunità lo vediamo in salvador che è una piccola realtà dove stanno sperimentando bitcoin per esempio come valuta nazionale e alternativa al dollaro che era che rimane valuta nazionale parimenti e sta dando risultati molto 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 positivi e chiaro che in realtà molto piccola però anche in realtà dove hanno inserito bitcoin su una popolazione totale di 7 milioni a 2 milioni e mezzo quindi 2 milioni e mezzo di persone da un giorno all'altro hanno dovuto incominciare ad usare bitcoin senza che sapessero nulla di che cos'era come funzionava e hanno in qualche modo accettato magari all'inizio con una certa resistenza come normale e oggi i risultati sono molto molto positivi quindi questo è un esperimento non sto dicendo che sia l'unica strada però la strada è nel diventare più bravi a gestire il denaro e non lasciarlo gestire agli altri semplicemente perché tutte queste questi sforzi queste direttrici che ci stanno proponendo stanno fallendo di fatto l'abbiamo visto all'ultimo world economy forum il tema centrale è stato il fatto che non tollano che non ci sia una censura abbastanza efficace ossia che persone come noi continuano a parlare continuano a dire quello che pensano perché è la cosa che li smonta il sistema di controllo un sistema di controllo negativo funziona solo nella misura in cui è possibile continuare a diramare bugie fandonie nel momento in cui queste bugie vengono rivelate rivelate come tali il controllo funziona più la gente comincia a dire no ma è diverso allora non ti seguo in quella direzione vado in quest'altra poi ci saranno sempre tentazioni di imporre ma vediamo che questi sforzi di imporre stanno traducendo sempre di più in reazioni anche piuttosto energiche da parte della popolazione che scende in piazza che comunque fa ostruzionismo di vario tipo quindi stanno rendendo conto che non sta funzionando e tenteranno qualche misura ancora più drastica potenzialmente nel 2023 per comunque costringerci a farlo ma nel momento in cui noi siamo informati nel momento per esempio in cui sappiamo che arrivano queste nuove farine di grilli che sono una porcheria e sappiamo come riconoscerebbe che non ci sarà scritto farine di grilli nei prodotti ma sarà altri nomi strani scientificamente oscuri che contraddistinguono quando noi sappiamo quello e smettiamo di comprare quei prodotti vedremo che quelle aziende falliscono e dovranno cambiare direzione quindi come dicono qui in america va bene votare alle elezioni perché è un diritto ed è anche un può essere solo parzialmente soddisfacente però poi anche necessario votare con i propri piedi e con il proprio portafoglio con il proprio portafoglio vuol dire premiare quelle aziende che vanno alla direzione giusta che separano la gestione del business da strane teorie politiche o strane mode pericolose e al tempo stesso che forniscono un buon prodotto direi anche questo no la tendenza a volere tutto gratis e quanto di più deleterio ci possa essere perché quando uno ottiene un prodotto gratis è perché il prodotto sei tu e questo la gente dovrebbe capirlo quindi riconoscere un giusto le cose costeranno di più questo è inevitabile anche perché mancando una una catena distributiva efficiente come quella di prima tutto costerà di più l'energia costa di più quindi di conseguenza anche i prodotti aumenteranno di prezzo ma con questo non vuol dire che non si possa avere un'economia che funziona anche perché pagando di più prodotti la gente potrà percepire stipendi migliori maggiori in più bisogna combattere questa questo cancro direi di questo sistema burocratico che si sta allargando in modo passivo che succhia energia senza dare reali benefici e perciò spingere in un ridimensionamento laddove possibile dell'influenza della burocrazia ma questo verrà di nuovo anche in modo automatico perché nel momento in cui l'economia si sposta su binari diversi paralleli più locali diventa più difficile a centrare potere a centrare soldi quindi questo è questo un pochino il messaggio direi ottimo la prima di passare a qualche domanda vorrei interpellarti anche sulla storia di chat gpt e che in italia sta facendo molto parlare approfitto anche di questo articolo che trovate nell'area la nuova area premium su money.it trovate tra l'altro il link in descrizione anche per abbonarvi e leggere questi contenuti premium e anche per scrivere a me per scrivere la redazione quindi proporci magari ospiti e temi e è stata approvata la chat che quanto pare non è però davvero intelligente lo rivela direttamente lui basta chiederglielo interrogato sulla propria intelligenza chat gpt ammette molto onestamente di non averla fatto non solo il settore dell'intelligenza dell'intelligenza artificiale in generale potrebbe abusare del termine parola della stessa intelligenza artificiale invitiamo chiaramente alla lettura di questo articolo che ha testato proprio il servizio la domanda è fino a che ci si potrà spingere e perché noi abbiamo visto questa questa cosa e pare insomma che microsoft voglia acquistarla ci sono progetti analoghi pare a google e via dicendo e questo è quello che ci fanno vedere immaginiamo che poi nel diavolo e quinte la cosa sia ancora più più spinta rispetto a quella che abbiamo visto una cosa di questo tipo che cosa può cambiare secondo te se cambia cioè è veramente una rivoluzione come sostiene qualcuno oppure la stiamo troppo empatizzando ma allora sicuramente ci sarà una crescita dell'uso di intelligenza artificiale nel nell'industria in vari settori perché ha dei campi di applicazione utile importante è ricordarsi però una cosa non è non è intelligente quindi il programma scusatemi il computer può fare solo quelle cose che il programmatore gli ha detto di fare in anticipo c'è un gpt in particolare è un secondo me un un'opportunità mancata era nato come prodotto appunto open source di dominio pubblico diversi fondatori del progetto tra cui il mas che con tutto quello che si può dire sul conto sembra essere coerente in termini di libertà di pensiero di espressione libertà di espressione del pensiero tant'è che adesso la comunità europea la commissione europea vuole penalizzarlo vuole in qualche modo creare delle barriere rispetto a twitter in europa perché adesso che su twitter si può scrivere di tutto anche sul covid piuttosto che sulla guerra in ucraina la cosa non va più bene proprio per la logica che vedevamo prima il pericolo principale di queste persone è metterle sotto la luce della verità nel momento in cui la luce della verità le illumina scompaiono come le blatte come insetti che vorrebbero farci mangiare e quindi continuiamo a gettare luce nel caso di chat gpt era nato appunto come progetto open source che mettesse a disposizione comunque una base informativa cospicua che era stata raccolta a beneficio di chiunque volesse usarlo nel proprio lavoro e ha delle applicazioni interessanti ossia può aiutare a creare delle presentazioni di vendita può aiutare a creare dei video informativi documentativi eccetera eccetera il problema chiave è tuttavia che appunto microsoft ha acquisito sostanzialmente una quota di controllo e quindi c'è stata una spaccatura all'interno del management di questa struttura dove appunto sarà sempre di più segreto il contenuto del codice quindi i famosi algoritmi verranno resi segreti anche perché è chiaro e questo già ho dichiarato che verranno fornite solo le informazioni che il diciamo l'elite vuole farci vedere quindi ciao gpt sarà un propagandista automatico qualsiasi cosa che noi gli chiederemo ci dirà un po come fa google però più efficiente rispetto a google ci dirà soltanto risposte che siamo autorizzati a vedere e bloccherà qualsiasi altro contenuto diverso quindi questo è ciao gpt oggi e domani quindi come progetto è un progetto che aveva delle grandi potenzialità verrà sfruttato probabilmente in termini commerciali per fare diciamo attività abbastanza banale ma verrà probabilmente sostituito da altri strumenti più più neutri anche perché di nuovo se io uso un sistema che in buona sostanza è una grandissima raccolta di dati che vengono organizzati e recuperati velocemente dal computer per me e che mi vengono quindi proposti in combinazioni che poi devo valutare se sono utili o meno utili ma mi risparmia un po di lavoro diciamo di ricerca se questi sono già pilotati in partenza sono già stati manomessi a quel punto non mi servono più a meno che io sia un propagandista quindi in quel caso va bene perciò appunto io direi l'intelligenza io mi occupo di informatica tanto tempo e l'intelligenza artificiale come dico un po scassosamente tante volte diventa deficienza naturale nel senso che è il prodotto di altre persone di programmatori che possono avere intenti onesti o disonesti e poi disonesti sono dappertutto e nel caso siano disonesti inseriscono le loro storture mentali all'interno del sistema creando quindi danni anche a tutti quelli che lo useranno di conseguenza di nuovo consiglio di documentarsi sulla sull'attendibilità dei sistemi e usarli quando servono e come servono ma non non vedo una grande trasformazione derivata da questi hanno fatto un grande successo c'è stato è stato virale l'accesso a questo servizio però non va usato con criterio passiamo a qualche domanda ti chiedo intanto se è in aumento la criminalità negli negli stati uniti la criminalità sta crescendo molto negli usa dipende da dove in alcuni stati in alcune città sì direi non ho una statistica generale non credo a livello generale che sia in aumento però in alcune località sicuramente sicuramente ci sono alcuni stati che sono più critici alcune città per esempio chicago piuttosto che lo new york oppure los angeles san francisco questo sicuramente però in altri stati in calo quindi dipende molto dove si va in grande paese è molto diverso poi la moneta digitale si potrà evitare e come sì con bitcoin risposta molto molto semplice e poi c'è chi chiede se la recessione arriverà davvero o ci siamo già ma in realtà ci siamo già basta guardare le statistiche allora e su questo sono parere abbastanza discordi tra i vari esperti economici alcuni ritengono che sarà profonda e quindi piuttosto sensibile altri ritengono che sarà meno profonda ma strascicata nel tempo probabilmente la seconda ipotesi è quella più credibile per il 2023 ma potrebbero esserci dei cedimenti improvvisi quindi un crollo di qualche tipo di certo stiamo andando questo sono più o meno tutti d'accordo verso un decennio il famoso decennio perduto questo in particolare per l'europa vale dire un decennio in cui ci sarà una diminuzione graduale del prodotto interno lordo comunque della produttività e purtroppo non siamo aiutati dalle statistiche ufficiali perché molto di quello che è calcolato nel prodotto interno lordo in realtà non è esattamente produttivo ma al di là di questo diciamo le industrie tradizionali soffriranno sia per appunto il trend di deindustrializzazione sia perché i mercati che prima erano disponibili non lo sanno più o comunque costranno di più e sia perché c'è in generale una certa incertezza c'è una certa gli stessi investitori sono cauti sul muoversi non c'è una spinta di fiducia nell'immediato futuro quindi direi di sì per questo appunto è necessario ripensare il proprio lavoro o ripensare le modalità in cui lo si fa per cogliere nuove opportunità quindi richiede un po di lavoro perché poi la realtà di ciascuno è diversa non vi posso dare dei consigli diretti però è possibile c'è gente che lo sta facendo e sta avendo grandi risultati anche perché in una situazione di questo tipo ci sarà un grosso trasferimento di ricchezza di nuovo e il trend sembra indicato sembra che sia a questo punto che il famoso 1% perderà ricchezza e verrà ritrasferito a una nuova generazione di ricchi questo è quello il consenso che vediamo e i nuovi questa nuova generazione di ricchi dovranno essere imprenditoriali dovranno darsi da fare e appunto sfruttare questa economia parallela che ormai si sta sviluppando e continuerà a crescere sarà più grande l'economia principale buonasera dice addolorata ma per chi ha digiuno di tutta questa tecnologia e moneta digitale come può fare come si deve organizzare se non ha mezzi per farlo sono argomenti difficili da poter mettere in atto ma dire il vero ci sono contenuti anche gratuiti in circolazione e il costo per approfondire questo tema non è poi così proibitivo ci sono alcuni libri che possono essere acquistati stiamo parlando di qualche decina di euro quindi è più una questione decide di farlo di farlo un po come dire all'inizio del secolo scorso chi produceva calessi e fruste per i calessi naturalmente non era contento dell'avvento dell'automobile ma non era possibile evitarlo quindi chi è rimasto a fare calessi e fruste per i calessi magari ha mantenuto un piccolo mercato dedicato al turismo in alcune località dove ci sono ancora le carrozze ma per il resto è semplicemente scomparso quindi dobbiamo renderci conto che siamo in una situazione di questo tipo comunque sta scomparendo un'intera generazione anche di famosi baby boomers stanno uscendo di scena e stanno scomparendo anche alcune industrie che non hanno più motivo di resistere come sono oggi e quindi bisogna darsi da fare poi di nuovo ciascuno fa nella misura in cui può ma se semplicemente evita la cosa poi finirà perché lo Stato creerà il famoso reddito di cittadinanza lo faranno cioè il lancio della moneta digitale sarà accompagnato da un reddito garantito fisso minimo a condizione che le persone rinunciino a qualsiasi altra cosa quindi rinunciano alla proprietà dell'automobile, rinunciano alla proprietà degli immobili e rinunciano al controllo del proprio conto corrente una volta che hanno rinunciato queste cose lo Stato provvederà e darà un minimo necessario per sopravvivere quindi chi si allineerà comunque avrà un mezzo di sussistenza per un certo periodo chi non vuole allinearsi naturalmente dovrà costruirsi quelle competenze che sono necessarie è un po' come la situazione degli anni 30 negli Stati Uniti a quell'epoca c'era gente che aveva estremamente successo e c'era gente che era estremamente povera era sparita la classe media e quindi quelli che avevano estremamente successo erano estremamente preparati erano estremamente intraprendenti, erano estremamente dinamici gli altri erano veramente alla frutta e credo che andremo, stiamo andando verso una situazione simile perché poi l'eliminazione della classe media è uno degli obiettivi delle famose elite quindi la classe media se vuole difendersi deve utilizzare i nuovi strumenti che ci sono però vanno imparati Silvia cosa ne pensa delle nuove regole si riferisce alla direttiva casa che pare sia in arrivo in Europa imporranno per le case con la scusa che devono renderle meno inquinanti e di fatto eliminare gli ultimi beni degli italiani beh è l'obiettivo dichiarato allora la cosiddetta tecnocrazia è una disciplina politica che poi diventa più che una semplice disciplina politica diventa una vera e propria religione per certi diversi che ha visto la piena codifica negli anni 40 e da allora si è sviluppata costantemente le Nazioni Unite con il loro progetto Agenda 2030 incorporano integralmente i principi della tecnocrazia i principi della tecnocrazia prevedono che gli stati non sanno più governati da strutture democratiche e da governi eletti ma sanno governati da esperti che meglio di chiunque altro sapranno ciò che è bene e ciò che è male per le singole popolazioni e che provvederanno alla necessità delle singole popolazioni quindi provvederanno alla casa provvederanno ai trasporti provvederanno al cibo provvederanno al denaro necessario per comprare le cose di prima necessità o quello che possono essere i consumi questo è lo scenario ideale del tecnocrata ed è quello che ci stanno proponendo quindi se poi ci riusciranno se ce la faranno fino in fondo dubito perché quando una persona ha in qualche modo respirato il profumo della libertà è difficile che la ceda facilmente però stanno andando in quella direzione e ci sarà qualcuno che cadrà nelle loro reti perché è quello che vogliono fare quindi come fanno a sequestrare le case prendere possesso delle proprietà private semplicemente appunto rendono molto difficile la vendita o l'acquisto quindi riducono la disponibilità di mutui aumentano i tassi di interesse impongono dei vincoli sulle costruzioni che rendono in economico vendere la casa perché uno dovrebbe prima spendere una cifra enorme per poterla poi rendere vendibile e a quel punto l'acquirente non c'è perché non è mutuabile e facendo così progressivamente incidono sulle tasse sui meccanismi di eredità di passaggio di proprietà quindi sono tanti meccanismi che possono usare che useranno impongono l'affitto fisso quindi lo Stato impone ai proprietari di casa che affittano un valore fisso come stanno facendo in California come vogliono continuare a espandere come concetto e così che i proprietari di casa non sono più incentivati ad avere case da affittare non sono più incentivati a fare manutenzione lasciano degradare come abbiamo visto succedere a New York nel Stato di New York in California i loro immobili e vengono requisite dallo Stato quindi questa è la direzione questo è dichiarato non è una cosa che su cui hanno hanno nascosto nulla è perfettamente palese fa parte del Green New Deal fa parte del Grand Reset è l'essenza stessa del Grand Reset l'essenza del Grand Reset come ci hanno detto loro è non avrete nulla sarete felici quindi non avrete nulla vuol dire che per esempio sulle automobili sarà sempre più difficile soprattutto nei grandi centri usare le automobili privatamente e le persone saranno incentivate ad usare i mezzi pubblici lo vediamo adesso nell'esperimento di Oxford dove le persone verranno costrette a limitare i spostamenti a un raggio di 15 minuti oltre il quale dovranno usare i mezzi pubblici salvo uscire dalla città girare tutto intorno e tornare dentro quindi con un dispendio di energia di carburante molto maggiore e nonostante ci sia una feroce opposizione da parte della popolazione di Oxford della stragrande maggioranza della popolazione di Oxford i titolari della città vanno avanti e i prossimi obiettivi l'hanno già dichiarato saranno Parigi e Milano quindi non si fermano questi non si fermano mai si fermano quando trovano un'opposizione decisa da parte della popolazione e una non collaborazione e metodi con cui le popolazioni si poi organizzano diversamente nel caso specifico dei trasporti credo che l'oggetto in passato sia meglio se uno ha già mezza idea di vendere casa vendere e trasferirsi in centri più piccoli dove sarà molto più difficile imporre queste regole quindi parallelamente però bisogna costruire un'economia che vive che può continuare a vivere senza il contributo dello Stato e questa è la migliore garanzia per poter essere mantenere un'autonomia perché prima o poi lo Stato dovrà rinunciare a queste politiche che sono comunque fallimentali abbiamo visto in Sri Lanka dove hanno applicato rigorosamente il bando ai fertilizzanti chimici che è uno degli obiettivi di nuovo l'intero Stato è crollato completamente la popolazione è invaso il palazzo presidenziale e da lì poi lo Stato ha cessato di esistere non è chiaramente una fine auspicabile non è quello che vogliamo ma questa è la direzione irritabile in cui si finisce se non si crea un qualcosa di alternativo che possa controbilanciare vediamo la situazione di stabilità paragonabile adesso in Perù Argentina forse in Brasile dopo le due ultime elezioni ci sono grosse tensioni quindi il concetto è muoversi prima che sia troppo tardi non aspettare l'ultimo momento questa è l'idea allora due flash finali tra l'altro nella tua sul bitcoin voglio dire che nella tua area riservata anche nel tuo sito ci sono dei video proprio dedicati in cui spieghi bene bitcoin quindi per chi fosse interessato e noi faremo invece lunedì alle 15 una trasmissione con Alberto De Luigi che è abbiamo già avuto ospite grande esperto di bitcoin con cui parleremo di El Salvador perché è stato il primo paese a riconoscere bitcoin come valuta legale e notizia che è stata sottasciuta abbastanza come ha detto il presidente Bukele in queste ore hanno ripagato nonostante le previsioni che dicevano con questa adozione del bitcoin andrete in default eccetera in realtà hanno pagato il loro debito che avevano di 800 milioni di dollari e vogliono far nascere questa sorta di bitcoin city quindi questa area pari libera dalle tasse dove appunto si scambierà si acquisterà insomma con bitcoin e sentiremo ad Alberto che è stato proprio recentemente a El Salvador com'è anche la vita perché ancora pare che nei cittadini tipo dal tassista ancora c'è molta resistenza nel senso che comunque accettano molto più valentieri dollari ancora però questo insomma ci sentiremo lunedì che cosa ci racconterà allora le ultime due domande Lucia sono una agricoltrice come sarà per noi che produciamo materie prime la vita sostanzialmente allora i tecnocrati vogliono anche sequestrare i terreni agricoli questo è l'obiettivo però diventa un po' più difficile a farsi rispetto alle case quindi potrebbe essere un secondo obiettivo una volta raggiunto il primo quello che cercheranno però di fare è di mettere gli agricoltori in difficoltà l'abbiamo visto in Olanda quindi imporre l'uso di strutture di coltivazione biologiche e proibire l'uso di fertilizzanti chimici che di per sé potrebbe essere anche una buona idea salvo che appunto devi dare alla gente il tempo di transitare di cambiare da una modalità all'altra e al tempo stesso non devi favorire l'importazione di prodotti non biologici da altre nazioni che a questo punto sarebbero una concorrenza isleale io credo che nel momento in cui le coltivazioni siano di tipo biologico ci sia una buona finestra di sicurezza di tranquillità poi dipende molto da dove ci si trova e anche dalla regione dalle politiche locali che verranno fatte quindi quello incide ma da quello che vediamo appunto nel momento in cui ci si muove sui binari biologici si è abbastanza sul sicuro se invece si usa fertilizzanti di tipo chimico allora si è nell'occhio del mirino non so quando e come potrebbe arrivare in Italia con questo genere di iniziative abbiamo visto in Olanda hanno colpito duro hanno colpito all'improvviso provocando il fallimento di numerosi agricoltori e quindi presumo che avendo avuto successo in certa misura in Olanda cerchino di fare altrettanto altrove la cosa migliore è tenersi informati appunto cercare di concentrarsi su una produzione di tipo biologico e cercare anche di influenzare le politiche locali perché le politiche locali possono avere un peso molto importante lo vediamo qui negli Stati Uniti dal governo centrale arriva ogni genere di odia ma fortunatamente abbiamo un governatore in gamba che filtra queste cose e che di fatto mantiene lo Stato su un percorso di grande crescita quindi nonostante negli Stati Uniti ci siano problemi importanti e in alcuni Stati ci siano problemi molto gravi in Florida si va bene in Florida l'economia sta crescendo bene e continua a crescere quindi appunto scegliete interagite di più con i governi locali e cercate di influenzarli in modo sensato e cercate anche di capire quali sono le politiche locali anche perché di nuovo questi grandi decisori centrali hanno poi una modesta capacità di imporre l'esecuzione reale delle proprie decisioni vediamo anche in Cina in Cina sono alcune attività completamente illegali che tuttavia il governo non riesce a stirpare nonostante tutti gli sforzi perché ci sono alcune zone della Cina dove non riescono ad essere così efficaci come possono essere invece nelle grandi città quindi il concetto è fare più attenzione all'economia locale e alla politica locale e l'ultima è se un amico ci dice di aver letto da qualche parte un articolo secondo il quale il dollago è a rischio crollo non ricordo la fonte diceva l'articolo che il sistema BRICS ha preso il sopravvento ti risulta Roberto? no no allora sicuramente il sistema BRICS se vogliamo inizialmente il sistema BRICS non ha una valuta propria e quindi che cosa sostituirebbe il dollaro? non c'è ancora niente di certo non può essere lo yuan cinese non può essere nemmeno il ruplo dovrebbe essere una valuta concordata all'interno del gruppo ma una valuta nuova creata ex novo e una valuta anche accettata negli scambi a livello internazionale sicuramente il famoso petrodollaro per quello che è stata la sua vita relativamente breve sta arrivando a capolinea perché l'Arabia Saudita ha concordato di vendere petrolio non più in dollari soltanto ma anche in yuan alla Cina e la Cina è il principale consumatore di petrolio in questo momento dell'Arabia quindi questo toglie al dollaro questa posizione di prevenenza nel commercio petrolifero ma da questo a dire che il dollaro è destinato a crollare ce n'è tanta anche perché non dimentichiamoci che tanto l'euro quanto lo yen in parte lo yuan tutte le varie altre valute ma soprattutto quello che ho citato sono dei derivati del dollaro sono collegati in modo indissolubile dal dollaro quindi nel momento in cui il dollaro dovesse crollare prima che il dollaro crolli sicuramente crollerebbe l'euro o crollerebbe lo yuan lo yen scusate il giapponese e in effetti lo yen giapponese lo vediamo abbastanza male lo stesso vale per la sterlina quindi in realtà quello che vediamo è una corsa al dollaro c'è scarsità di dollaro in circolazione e c'è maggiore richiesta di dollari paradossalmente quindi no il dollaro non è destinato a crollare nel breve periodo anche perché il dollaro ormai non è più sul controllo degli Stati Uniti e questo potrebbe essere un discorso completamente diverso che richiede uno spazio a sé per essere elaborato perciò state tranquilli che il dollaro continuerà a essere un punto di riferimento ancora per un discreto tempo e nel frattempo ci saranno invece perturbazioni su altre valute e allora siamo arrivati alla fine grazie Roberto di questa lunga e ricca chiacchierata ci vedremo il mese prossimo un grande saluto e a presto saluti a tutti a presto